A Venafro, davanti all'ospedale Santissimo Rosario, per parlare di RSA inaugurata diversi anni fa e mai attivata, di ambulatori previsti da specifici atti aziendali, in realtà anche questi mai attivati, lo facciamo con il Comitato Santissimo Rosario di Venafro, nella persona del dottor Mario Giannini. Ci sono delle cose già previste, degli atti, che non sono state mai attivate. Faccio un esempio, l'RSA. L'RSA sono stati fatti tanti lavori, è stato addirittura inaugurato, ma l'apertura non è mai avvenuta. Questa è una delle cose, ma potrei citarne tante altre. I poleambulatori essenziali sono parecchi, che non sono stati mai attivati, ma non solo, io dico, ci sono anche delle attività che stanno cercando di smantellare. Non so chi, penso al direttore del distritto, penso al direttore generale, però faccio un esempio. Il punto unico di accesso, che è fondamentale per l'assistenza domiciliare, beh, c'è una sola unità e non viene potenziata attraverso altro personale da stabilire in questo settore. Non solo, la scelta è irrevoca del medico, una sola unità. Ci sono altre unità che vogliono venire in questo servizio e invece non viene potenziata. Per esempio la medicina legale, benissimo, sono stati chiusi in alcuni giorni della settimana, non sappiamo per quale motivo, perché deve andare a essere la dottoressa che ha detto a questo servizio. Tutte questioni per le quali il sindaco di Venafro, Alfredo Ricci, ha recentemente promosso un ricorso al TAR contro l'ASREM, che avrebbe disatteso specifici atti aziendali, gli stessi a cui fa riferimento il dottor Giannini. Ma benvenga anche questo ricorso, noi abbiamo detto prima, sono mesi, sono anni che stiamo battendo su questo, ma invece di fare in modo che questi servizi vengano attivati, c'è qualcuno che rema contrario. E noi per il futuro vorremmo delle garanzie, vorremmo qualcosa, anche nel POS ci sono previste alcune cose, ma vogliamo le garanzie da chi amministra la sanità, dal commissario, ma perché il commissario non si interessa di vedere per quale motivo qua le cose non funzionano. Sono tanti anni che stiamo in piano di rientro, tra l'altro nell'ultima tornata elettorale delle politiche gli eletti al Parlamento Cesaro Tito hanno detto che si impegneranno a che ci sia un decreto molise, che azzeri il deficit. D'altra parte non si spiega come mai dopo tanti anni di commissariamento ancora c'è questo deficit, vuol dire che qualcosa non funziona. Noi però chiediamo con forza che ci siano previsti nella Casa della Salute di Venafro, nell'ospedale di comunità, anche dei servizi fondamentali, tipo per esempio il punto di primo intervento territoriale, che sarebbe fondamentale, anche se non lo possono applicare subito, che sia previsto nel prossimo POS, nel POS che sarà approvato, anche questo punto di primo intervento territoriale. D'altra parte, se 15 anni di sanità commissariata hanno prodotto i risultati che vediamo oggi, cambiare strategia, andando al di là dei meri numeri e di una gestione ragioneristica, è un'opzione da tenere nella debita considerazione. Intanto il Comitato Santissimo Rosario fa sapere che chiederà un ennesimo confronto con il commissario ad acta Toma.